buongiorno a tutti questo è lo sfondo più bello di tutti lo sfondo sempre libero di tutti non sono stupido è lo so benissimo che stasera si gioca al dall'ara di bologna però qua ci vediamo la settimana prossima la settimana prossima contro il torino il torino buongiorno a tutti amici buongiorno buon lunedì stasera si debutta quanti ne abbiamo visti di debuti ma ogni volta è sempre è sempre più bello ragazzi è sempre più bello la sera stasera stasera si fa sul serio si inizia a fare sul serio inizia il nostro campionato il campionato che volendo no lente ci ha visto regine del mercato se così ci si può definire in italia ragazzi sono partiti bene tutti sono partiti bene tutti tranne le romane ma nelle romane lo sappiamo non me ne vogliate però ce lo sappiamo che non competono mai per quello che per cui competiamo noi quindi allora a parte questo ragazzi mi raccomando l'iscrizione al canale e mi piace sono fondamentali fondamentali non fatemelo mancare il vostro supporto ragazzi oggi farò due video probabilmente faremo gli ultimi dieci minuti di partita se le cose dovessero andare bene se le cose dovessero andare male lo farò lo stesso il video ovviamente lo sapete ormai per chi mi conosce da tanto la faccia ce la si mette sempre dunque c'è questo bologna qui ragazzi l'unica cosa che mi fa porre del bologna non è nella squadra perché la squadra gli è stata tolta anche arnautovic quindi è praticamente come l'udinese di domani cioè di ieri sera bologna e udinese sono due squadre che sono state indebolite l'unico l'unico che mi fa paura del bologna ragazzi non è neanche un giocatore tiago motto tiago motto lo sappiamo c'è il dente avvelenato contro di noi perché interista del cazzo come al solito lo sappiamo nei tempi da quando allenava lo spezia insomma da quella famosa partita che ci hanno rubato l'anno dello scudetto quindi questa sera io allora prendo spunto per le parole che ha preso ieri il mister che ha detto ieri mister in conferenza stampa ragazzi praticamente ci sono due cose da dire tiene in conto adli crunici ormai lo sappiamo è titolare metto un attimo così perché c'è un botto di sole stamattina caldissima milano ha detto che renders per per caratteristiche potrebbe fare il regista e quando ve lo dicevo io no non è mezzala e mezzala va bene siamo convinti ma per caratteristiche renders lo può fare perché una volta che c'è qualità di fondo il giocatore lo puoi mettere non dico dappertutto però i ruoli del centrocampo rendersi li può fare tutti poi c'è cruni discorso cruni ce lo sappiamo titolare però la cosa che mi ha veramente colpito parecchio è che finalmente tiene in conto adli cioè nessuno gli ha chiesto niente nessuno gli ha fatto una domanda su adli perché ormai anche i giornalisti ci avevano perso le speranze lui ha detto che adli è il vice crunici abbiamo ufficialmente il vice crunici che poi pensandoci bene adesso ci sto pensando in teoria dovrebbe essere adli titolare crunici la sua riserva ma va bene va bene basta che me lo tieni in considerazione mister basta che me lo tieni in considerazione dunque parliamo un po di sta partita io parlo sinceramente dei nostri io voglio vedere una squadra subito sul pezzo cioè veramente non sopporterei vedere la mancanza di approccio cioè dell'approccio dell'approccio giusto alla partita mi manderebbe veramente cioè c'ho troppe aspettative io quest'anno su questo campionato ragazzi non ve lo nascondo secondo me in avanti abbiamo probabilmente un reparto d'attacco uno dei reparti d'attacco più forti che ci sono in italia questo penso di poterlo dire tranquillamente certo manca la punta anche se ieri pioli a proposito ha detto anche che ocafor è una punta ha detto che è una punta secondo me ragazzi è più il vice vice leao perché lui lo dice sì perché non vuole dire sempre manca questo manca quello non lo fa mai anzi si è detto ovviamente soddisfatto del mercato che è stato fatto vorrei ben dire però ocafor io numero 9 non mi convince c'è proprio le caratteristiche uno veloce che dribbla non ce lo vedo proprio anche se comunque proprio alla alla massia come si dice alla peggio lo si può lo ci si può adattare però non sinceramente io vedo un origini uscita un colombo che ha chiesto di andare a giocare vedo un attaccante in entrata sicuramente il mina lo farà mentre pellegrino sarà oggi a milano per sostenere le visite mediche sono curiosissimo curiosissimo di vedere il nostro centrocampo perché reinders nel precampionato è sembrato veramente qualcosa di superiore l'impatto di loft to chic con la serie a questo sì e vabbè di crulli non ne voglio neanche parlare e l'altra cosa sono i due difensori centrali cioè voglio vedere a parte che stasera non avendo più arnato vici il bologna dovrebbe guardate cosa vi vengo a dire dovrebbe essere un compito un po più agevole perché comunque gioca a zirze il bologna ragazzi secondo me è poca roba poi stasera perdiamo 3 a 0 vengo qui e piango però se togliendo gli arnato dice ragazzi veramente gli hanno tolto arnato dice scout io non gioca barro io sinceramente oltre a dominguez ferguson e lukumin difesa al bologna lo vedo veramente poca roba però parliamo dei nostri questa sera giocheremo con mayan con magic mike il miglior portiere del campionato molto probabilmente del mondo visto l'infortunio di corto a real madrid ovviamente sul fascia sinistra il terzino sarateo probabilmente capitano perché cala no calabria non so se gioca a calabria ragazzi questa non la so dovrebbero dovrebbe fare dovrebbe giocare o calulu o probabilmente calabria non lo so comunque se non gioca calabria il capitano è teo coppia centrale ormai ciao tomori abbastanza assodata veramente non voglio vedere svarioni assolutamente né di uno né dell'altro mi preoccupo un po di più tomori ma voglio dare fiducia ovviamente c'ha molto credito tomori per me rimane un gran difensore però è uno che veramente sfarfarla ha sfarfallato un po troppo in questo precampionato poi o ditemi che sono pseudo milanista però questa questi sono dati di fatto sul terzino calabria o probabilmente calulo adesso questa cosa che mi passa di mente veramente non ho presente magari calabria infortunato non lo so comunque centrocampo ormai è quello potrebbe diventare una fila strocca potrebbe diventare una fila strocca quest'anno perché sì abbiamo molte alternative però l'undici titolare quello secondo me quindi renders a sinistra cronice vertice basso e renders cronice love to chic che sono curioso di vedere se hanno trovato l'intesa giusta perché comunque precampionato se lo sono fatti già un mese che giocano abbondante che giocano insieme davanti io ho sentito parlare suma di pugile è un acronimo che non mi piace proprio niente si dice acronimo comunque la come il caparò vecchio caparò era tanta roba il pugile pulisic le au giru non non mi piace non mi piace mi piace il tridente non mi piace il nome che è stato gli è stato attaccato sono curioso di vedere pulisic lo sapete il mio pupillo da sempre è sempre stato uno di quei giocatori anzi secondo me pulisic e renders saranno i migliori acquisti di quest'anno senza nulla a togliere a ciuqueze che entrerà a partita in corso ieri più gli ha detto anche che è molto contento di okafor molto contento di come sta lavorando okafor sono anche molto contento perché ragazzi mi ricordo l'anno scorso col salisburgo c'è sembrava sembrava ronaldinio okafor sembrava veramente ronaldinio ed era veramente è stato veramente tantissima roba finalmente abbiamo una panchina lunga una panchina lunga sulle sulle fasce ragazzi stasera non conta più mercato non contano più polemiche non contano più conta più niente non conta più niente c'è donne lavoro stress casa soldi figli però io figli non ne ho quindi non posso capire non conta niente da stasera alle 20 e 45 del 21 di agosto del 2023 conta il milan e voglio i tre punti voglio i tre punti li esigo esigo i tre punti grazie esigo i tre punti grazie noi ci vediamo dopo la partita ragazzi c'ho una mini non ansietta proprio ho l'hype c'è proprio la come si dice la frenesia di vedere il milan detto questo ragazzi video breve questa mattina breve comunque siamo a nove minuti e mezzo lo sfondo più bello di tutti rimane sempre quello ma qui ci vediamo la settimana prossima per milan torino un bacio ciao a tutti